Vrestelmania in Italia ragazzi questo è semplicemente un evento epocale infatti io credo che fossero 30 anni una cosa del genere che Vrestelmania non andava in onda in italiano in Italia e soprattutto in chiaro quindi non su un canale a pagamento come era ovviamente su Sky e credo che questo sia un sintomo un evidente sintomo del bellissimo momento che sta vivendo il wrestling in generale e in particolare quello che interessa a me che interessa anche a voi immagino è quello che sta vivendo in Italia anche quest'oggi faremo questo video un pochino a braccio quindi vi dirò quello che penso sulla situazione del wrestling attuale WWE ma non solo eventualmente perché è proprio una bella situazione generale come vi dicevo prima non solo per quanto riguarda la WWE ma anche per la AEW ad esempio secondo me stanno facendo delle ottime cose anche se io in quella federazione nella federazione presidiata da Tony Khan cambierei sicuramente alcune cose ad esempio darei più spazio ai promo e non per forza infatti secondo me la quantità di wrestling lottato durante una puntata fa la qualità della puntata stessa di quell'evento però è anche vero che così si differenzia sicuramente dalla WWE ma ci sono alcune cose che io preferisco soprattutto per quanto riguarda le puntate settimanali mi piace proprio vedere delle storie che vanno avanti perché il wrestling questo è un grande spettacolo è un teatro in televisione è una serie tv a teatro veramente una delle forme d'arte più complete secondo me meravigliose che esistano tanto che io amo questa cosa da quando ero veramente un ragazzino sin dagli anni 90 e continuo ad amarla ovviamente in maniera molto diversa in maniera più cosciente più matura ancora oggi è un evento epocale quello di breastmania in italiano in Italia in chiaro fatta una settimana dopo questo sì rispetto alla diretta sicuramente io la guarderò in diretta con tutti voi seguendola insieme sul canale di Maxi Zosom anzi vi invito per quei pochi che comunque solitamente guardano i miei video sul wrestling ma io sono contento di parlare anche a un pubblico non enorme ma comunque molto molto appassionato e affezionato a questa disciplina appunto vi dicevo vi invito a seguirci tutti nelle live del venerdì che facciamo da Matioschi dove appunto parliamo di wrestling e dell'attualità su di esso e anche ogni volta che c'è un pay per view se vi va lo commentiamo in diretta sul canale di Maxi Zosom che è assolutamente il miglior canale italiano per quanto riguarda il wrestling davvero Max è un'enciclopedia fa delle analisi azzeccatissime dei video super interessanti io lo seguo da una vita non solo Wrestlemania appunto in italiano in Italia in chiaro per la prima volta dopo tantissimi anni un evento che ci sarà a Bologna il primo maggio per chi non lo sapesse house show vuol dire uno show non ripreso dalle telecamere ma dove comunque gli atleti lottano come sempre e anzi a volte regalandoci dei match ancora più belli più spettacolari perché non hanno quei limiti imposti dalla tv quindi se non avete ancora preso i biglietti non credo che siano disponibili nei circuiti ufficiali perché è andato soldato dopo poco ma forse se cercate qualcuno che li rivende li doveste trovare io ovviamente sarò lì insieme a tanti degli amici di cui vi parlavo prima ma questo preambolo era per dire anche che comunque il fatto che abbiamo l'house show il fatto che abbiamo Wrestlemania finalmente su una tv in chiaro potrebbe essere anche un preludio a quello che il mitico John Cena aveva diciamo un pochino buttato lì nell'aria quando venne a fare un promo lo scorso anno e io ero lì presente nell'arena a money in the bank che è un evento di wrestling che si tenne a Londra ecco lui disse che sarebbe stato figo avere una Wrestlemania a Londra io sono assolutamente convinto di queste parole non sarebbe decisamente un problema andare a Londra per Wrestlemania così come non sarebbe un problema andare a Roma per Wrestlemania o a Milano sperando solo che possano un pochino moderarsi con i prezzi perché se c'è una cosa negativa sul wrestling in questo momento secondo me è proprio il fatto di avere dei prezzi spropositati per quanto riguarda questi grandi eventi ma non solo perché veramente per andare a Wrestlemania ci vuole un mutuo ma anche per gli eventi normali io l'anno scorso non ho spesi così tanto mi ricordo che comunque con qualche centinaia di euro me la cavai quest'anno ho dato un'occhiata ai biglietti perché volevo andare a Berlino ad agosto c'è Bash in Berlin che è appunto un evento che faranno a Berlino e a maggio invece ce n'è un altro a Lione in Francia ma per Berlino ci volevano 2000-2500 euro per i biglietti un pochino più decenti che ho visto io e anche quelli molto molto lontani comunque si aggiravano sui 1000 euro quindi insomma questa cosa la rivedrei un attimino perché è veramente brutto insomma se deve diventare un passatempo elitista e solamente per ricchi il momento del wrestling è d'oro come tutti stiamo vedendo addirittura durante l'ultima puntata di Raw c'è stato un ritorno a quello che tanti attendono come il grande ritorno della Attitude Era per chi non lo sapesse un'era dove erano un pochino più sboccati più violenti più vicini a un certo tipo di pubblico adulto io non ne sento particolarmente la mancanza perché comunque c'è stato molto 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 trash anche in quell'epoca e molti che non l'hanno vissuta la ricordano solo attraverso le cose migliori che fanno vedere magari oggi durante i recap i vari video le collezioni e tutto quello che si trova online io che l'ho vissuta vi posso dire che di cose oscene veramente brutte 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 da vedere ma anche solamente da concepire ce ne sono state tante e quindi mi concentrerei assolutamente sull'oggi senza auspicare nessun ritorno al passato e oggi abbiamo delle cose fantastiche abbiamo una Road to Wrestlemania che è l'evento più importante della WWE come mai imprevedibile forse si aprono veramente tantissimi scenari nonostante come abbiamo detto più volte anche da Matioschi la prevedibilità non sia per forza una cosa negativa nel wrestling anzi vuol dire che è scritto bene ed essendo fondamentalmente una serie tv live action deve essere scritta bene ma appunto anche lì nelle serie tv come in un film l'imprevedibilità può essere assolutamente una cosa positiva in determinate occasioni e a Wrestlemania stiamo vedendo che potrà succedere di tutto e ci potranno essere ospiti di qualsiasi tipo si paventa Stone Cold Steve Austin, si paventa John Cena e secondo me ci saranno sicuramente questi personaggi anche perché ricorre il quarantesimo anniversario della nascita di Wrestlemania quindi come farsi sfuggire un'occasione del genere per fare una mega festa ovviamente in due serate sarebbe veramente sciocco non mettere e non fare il parterre più grande possibile per quelle che saranno le serate del 6 e 7 aprile quindi il prossimo sabato e la prossima domenica che ovviamente vi ripeto seguiremo insieme in live da Maxi Zosom quindi sicuramente ci saranno questi personaggi non credo però che parteciperanno in forma attiva come qualcuno crede al main event della seconda serata che appunto sarà Cody Rhodes contro Roman Reigns perché in questo momento ci incastrano poco qualcuno dice ma Stone Cold con The Rock ci incastra perché hanno fatto tre main event di Wrestlemania una delle rivalità più importanti di sempre sì ma cosa c'entra con questa rivalità della Bloodline contro Cody Rhodes e Seth Rollins assolutamente nulla altrimenti che cazzo ne so mettiamoci anche Ron Simmons e la Nation of Domination a Darman Forte a The Rock veramente non c'entra assolutamente nulla quindi apparizioni sì per questi grandi personaggi sicuramente anche Undertaker sicuramente mi aspetto anche Shawn Michaels mi piacerebbe anche Bret Hart tutte le persone che hanno fatto la storia di Wrestlemania quelle che sono ancora vive almeno perché purtroppo come molti di voi sapranno il wrestling è funestato da tantissime morti dovute ai motivi più disparati ma per la maggior parte dei casi all'uso di anabolizzanti, di steroidi, di droghe varie di vita sregolata che è stata fatta negli anni soprattutto spero passati di questa disciplina l'ultima puntata di Raw è stata veramente eccezionale i vari promo tra The Rock e Cody Rhodes sono stati eccezionali anche se sono d'accordo come dice qualcuno che forse questo sta mettendo un pochino meno in risalto quello che è davvero il feud principale ovvero Cody Rhodes contro Roman Reigns però se si guarda la Biggest Pictures insomma è interessante molto molto interessante stare al di sopra vedere tutte queste marionette che si muovono probabilmente con i fili tirati da qualcuno di loro perché sono sicurissimo che ci saranno dei tradimenti, dei colpi di scena che faranno dire ah ecco come mai era successo questo e potrebbero andare sia in una direzione che in un'altra ma per quanto riguarda le previsioni di Wrestlemania magari le farò la settimana prossima intendo proprio sui risultati dei match e su quello che avverrà a Wrestlemania quindi questo è un feud molto molto figo, un The Rock in grandissimo spolvero io devo essere onesto non ho mai amato così tanto The Rock nei promo perché sì ovviamente ritengo che sia uno dei top performer per quanto riguarda il parlare al microfono interpretare un personaggio e tutto però lo trovavo un pochino statico cioè lui arrivava nella città faceva i suoi promo sempre abbastanza simili nell'impostazione poi ovviamente ci sono state tante cose diverse, le sue canzoni, tutto quello che faceva in base alle varie occasioni però l'impostazione era molto simile, in questa sua versione da cattivo, da Hill, lo vedo veramente eccezionale sta facendo della roba fantastica, così come è stato appunto durante l'ultima puntata di Raw con questo segmento dove un abbondante fuoriuscita di sangue dalla testa di Cody Rhodes ha fatto tutti impazzire e sperare in un ritorno della Attitude Era credo semplicemente che ci stava in questo promo, ci stava in questo segmento più che promo e che quindi la WWE non si interessi neanche se deve pagare una multa di qualche migliaio di dollari per aver fatto vedere il sangue perché appunto da quello che so ormai da qualche anno è proibito far vedere il sangue però se comunque la storyline, il segmento che stai mandando avanti necessita di far vedere del sangue in quel preciso momento, secondo la loro ottica, e io sono d'accordo, è meglio pagare una multa di qualche migliaia di euro, di dollari anzi, piuttosto che non farlo perché comunque in termini di ritorno economico pubblicitario e di successo con i fan sarà maggiore e poi c'è stato quel promo incredibile, veramente tra CM Punk, Seth Rollins e Drew McIntyre che sono in stato di grazia, particolarmente Drew McIntyre per me che merita di vincere qualsiasi cosa spero che esca da Western Mania con il titolo perché è il miglior personaggio credo attualmente del roster anzi di tutti i roster della WWE, veramente fantastica, insomma è stato citato Vince McMahon che in questo momento è la cosa più proibita da fare in assoluto in WWE perché magari ne parleremo in un altro video ma è stato coinvolto in una cosa aberrante Drew continua a lanciare queste frecciatine a CM Punk e CM Punk sta rispondendo con delle frecciatine a Drew ma addirittura alcune fuori dallo show, tipo siccome CM Punk ha deciso che farà il commentatore a Western Mania per il match tra Seth Rollins e Drew McIntyre, Drew ha fatto un tweet dicendo a Punk speriamo che non ti infortuni anche mettendoti le cuffie perché appunto Drew sta puntando molto su questa cosa che CM Punk ormai è anziano, che CM Punk è fragile effettivamente io lo dico da grandissimo fan di CM Punk è rientrato e dopo un pochino al suo primo match da rientro si è fatto male, si era fatto male un paio di volte importanti anche nel precedente stinti nei W quindi insomma sicuramente sembrerebbe abbastanza fragile, però mi auguro tutto il meglio per lui nonostante a Londra lo scorso anno non voleva che lo toccassi, si è quasi incazzato con me però la foto alla fine l'ha fatta dai e quindi che dire, credo che per il wrestling sia davvero un bellissimo momento vi invito a guardare Wrestlemania in live con noi da Maxis Osom se invece la volete vedere poi direttamente in italiano o se la volete anche rivedere poi in italiano sabato 13 e domenica 14 aprile alle 21 e 25 quindi anche in prima serata cosa veramente eccezionale con il commento del bardo Michele Posa e il Godzilla Luca Franchini che saluto sarà disponibile su D-Max io comunque se fossi in voi anche se l'avessi già vista insieme a noi in live le notti del 6 e 7 aprile me la riguarderei anche la settimana dopo con il commento di Posa e Franchini per dare un bel segnale alla WWE che magari, che cazzo ne so, una Wrestlemania al Colosseo ce la porta prima o poi scherzi a parte non credo proprio che il Colosseo sia agibile per queste cose però gli stadi o i palazzetti sicuramente non ci mancano fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate con un commento di questa situazione se il video vi è piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi attivando le notifiche e condividetelo con qualcuno a cui pensate possa interessare se vi piacciono anche manga, anime, cultura otaku e giapponese a giugno noi andiamo in Giappone con un bel tour quindi qui sotto trovate tutte le info noi ci vediamo alla prossima e ciao grazie 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 grazie